Ciao a tutti, buon inizio di settimana e bentornati sul canale di Pippo Quarto. Lungi da me voler tradire le fanciulle di QVC, però ho provato a dare un'occhiata all'altra emittente di moda, e devo dire che mi è andata piuttosto bene, perché questa donna ha un fascino disarmante e potrebbe dare molto di più. Diciamo che è stata una puntata breve ma intensa, tant'è che la bella Alessandra parte subito forte rivelando a tutti i suoi programmi. Andiamo poi con il nero. E la cosa suscita subito l'ilarità delle amiche in studio, e sicuramente una di loro deve aver fatto qualche battuta che non è sfuggita la bella Alessandra, come dimostra la sua reazione. Vero. Comincia così a stuzzicare un po' le telespettatrici utilizzando le solite paroline a doppio senso, e quindi sottolinea che il suo nickname sui social è fodera. Prosegue il discorso continuando a dare indizi, dicendo che in realtà non è una fodera come tante, bensì ha uno spacco. E poiché qualcuno la stava già incalzando con un certo tipo di richieste, la bella Alessandra afferma con forza che non è sempre aperta. Ci tiene inoltre a sottolineare che non è quel tipo di donna che casca ai piedi di un uomo con facilità. Ed anzi tende a mettere subito dei paletti e chiarire quali siano i suoi standard, perché poi c'è il concreto rischio che con lei non arrivi. E allora dà indicazioni ben precise. La lunghezza è di 80 centimetri. Bella madonna. Insomma è proprio il caso di dire che c'è sostanza. Quindi per reggere l'urto è comunque necessario che la beneamata sia ben strutturata. Ma non disdegna vie secondarie. Dietro al centro. Ma sul più bello decide di uscire di scena. Adesso vado. Fa' il culo va. Ragazzuoli belli il video le si finì. Grazie della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.